Abbiamo già affrontato le criticità di Rigutino, frazione aretina che si sviluppa lungo la strada regionale 71 e che come avviene anche in altri luoghi sta pagando il prezzo della crisi del commercio e di una società che inevitabilmente cambia. Ricordiamo che lo scorso aprile ha abbassato le serrande l'unico supermercato per tutti un riferimento importante per la spesa, specialmente per le persone più anziane e al momento non si parla di una nuova apertura data anche la difficoltà di parcheggio. Su questo fronte il comune di Arezzo sta lavorando ad un progetto che potrebbe portare novità ma adesso i residenti devono fare i conti con un'altra questione che preoccupa. Il 12 ottobre chiuderà la filiale di banca intesa San Paolo sottraendo così alla popolazione un ulteriore servizio che costringerà i residenti a muoversi altrove e i cittadini si dicono preoccupati per questo si sono riuniti nel salone del centro di aggregazione sociale alle ex scuole elementari. Ci stiamo interrogando su quale futuro augurarsi per questo territorio dicono commercianti e cittadini attraversare il rigutino adesso significa passare in rassegna una serie di vuoti immobili in stato di precarietà la ex filanda numerosi fondi commerciali in attesa di una futura destinazione incerta ma che conoscono già una progressiva svalutazione. Un paese dicono che fino a pochi anni fa poteva vantare tutti i servizi di prima necessità sta assistendo al loro progressivo smantellamento accompagnato dalla inevitabile decadenza urbana economica e sociale. All'incontro erano presenti anche due consiglieri comunali uno di maggioranza ed uno di opposizione.